Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Scoperti i centri massaggi a luci rosse a Pesaro e Rimini tra i clienti e anche note professionisti del pesarese Razzia di Lettini spiaggia a Ponte Sasso uomo ripreso dalle telecamere e caccia al ladro Rossini e Ricci inaugura la mostra del 150esimo anniversario esposizioni diffusa con Fano e Urbino Al via la nuova era dell'alma Juventus Fano presentato alla stampa il nuovo staff Granata Fano di Cesari è il giorno della corsa delle bighette fra poco ci collegheremo dal pincio per all'evento con i baby gladiatori Buonasera e benvenute a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Un'operazione congiunta tra la squadra mobile e la polizia locale di Pesaro ha portato all'arresto di due persone e alla chiusura di altrettanti centri massaggi a luci rosse all'interno operavano donne e ragazze anche della provincia di Pesaro Urbino Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Stefano Mascioni Apparentemente erano dei centri massaggi in realtà si praticava sesso a pagamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione l'hanno chiamata operazione Happy Handing ed è il risultato delle indagini congiunte tra la polizia di Stato e la polizia locale di Pesaro che hanno stroncato un florido giro di prostitute, almeno 12, quasi tutte italiane che operavano in alcuni fantomatici centri massaggi olistici tra Pesaro e Rimini gestiti da una coppia di uomini pregiudicati 39 anni e 51 anni uno residente a Rimini, l'altro residente a Pesaro Questa mattina, presso la questura di Pesaro il capo della squadra mobile Silio Bozzi e il commissario guerra della polizia locale hanno illustrato i dettagli di un'operazione congiunta durata mesi in un crescendo di intensità in una prima fase infatti, lo scorso 5 maggio erano stati sequestrati in via preventiva i locali del Body Harmony Club di via Toscanini 29 a Pesaro pseudo associazione culturale dove alcune donne italiane effettuavano massaggi a sfondo sessuale a pagamento il gruppo criminale però, per nulla spaventato nonostante il deferimento di uno dei due uomini insieme alla propria convivente dopo pochi giorni hanno avviato altri due centri dove continuare a operare uno a Pesaro, presso Borgo Santa Maria denominato Namaste e uno a Rimini, estremamente lussuoso ricavato in una villa di prestigio e denominato Villa Principe il giro era sostenuto da pubblicità attrattive e molto efficaci che in poco tempo hanno fatto arrivare nei centri moltissimi clienti di tutti gli strati sociali alcuni molto noti a Pesaro e sviluppando un fatturato da diverse migliaia di euro al giorno un'attività florida che però la polizia ha potuto documentare con indagini ad alto tasso tecnico che hanno prodotto tutti i riscontri necessari per far scattare l'arresto e mettere i sigilli sulla scolta degli elementi raccolti infatti lo scorso 9 luglio il GIP di Pesaro ha accolto la richiesta del PM emettendo l'ordinanza che ha segnato la fine del traffico e la traduzione in carcere dei due uomini presso il penitenziario di Villa Fastigi Abbiamo scoperto un sodalizio criminale che attraverso il paravento di centri dove avrebbe dovuto praticarsi un massaggio di tipo olistico tantrico veniva praticata un'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che ha visto coinvolte anche 12 donne quasi tutte di nazionalità italiana era un'attività molto redditizia tanto è vero che la prima tranche dell'indagine che ci ha consentito di denunciare all'autorità giudiziaria due di questi soggetti è proseguita, anzi si è espansa è trascimato nel Riminese dove il flusso di denaro e di cliente era molto più importante Una ragazza di origini marocchine è stata investita da un'auto oggi intorno alle 13 mentre camminava con le due sorelle sul ciglio della strada nazionale adriatica a Metauriglia in direzione Pesaro nel tratto compreso tra la chiesa e il distributore di carburante Dai primi accertamenti è emerso che lo specchietto dell'auto condotta da un 66enne di San Lorenzo in campo ha urtato la giovane scaraventandola nel fosso adiacente Subito soccorsa dal 118 è stata trasportata in ambulanza al torrete di Ancona ma non si conoscono ancora le sue condizioni di salute Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i vigili urbani di Fano È stato immortalato da una telecamera fissa il ladro che l'altra notte ha fatto razzia di lettini in due spiagge a Ponte Sasso di Fano Noi questa mattina abbiamo raccolto la testimonianza dei gestori degli stabilimenti balneari Sentiamo Si aggira con affare sospetto ai bagni Isla Morada Dog Beach poi in tutta tranquillità chiude i lettini uno dietro l'altro e li porta via Peccato che sia stato ripreso da una telecamera fissa dello stabilimento balneare Eccolo in azione il ladro che l'altra notte intorno alle 3.30 ha rubato 30 lettini nella spiaggia di Ponte Sasso a Fano e probabilmente è sempre lui il responsabile anche del furto avvenuto a Magni Carmen poco distante dove ne mancano altri 13 I gestori amareggiati e arrabbiati per quanto accaduto ieri hanno deciso di diffondere il video postandolo su Facebook nella speranza che l'uomo col cappellino bianco possa essere riconosciuto È stata una strage in un periodo sicuramente non dei migliori nel senso siamo in piena stagione quindi il danno è ancora maggiore perché poi ci siamo ritrovati senza le attrezzature utili a lavorare al danno economico del furto e all'impossibilità di recuperare perché poi i colpevoli probabilmente sono già fuori paese e oltretutto con il forte dubbio che l'assicurazione copra un danno di questo tipo perché appunto in spiagge è sempre difficile capire se le assicurazioni coprono Quanti ne avete in totale? Noi abbiamo 44 ombrelloni avevamo 90 lettini ne abbiamo rimasti 60 Quanto si aggira il danno? Il danno è facile perché sono circa 150 euro lettino quindi siamo sui 4.500 euro oltre al mancato guadagno di non poter lavorare con queste attrezzature Probabilmente aveva un complice questa persona perché insomma portare via tutti questi lettini sicuramente non è sempre Non poteva essere da solo come anche i carabinieri ci hanno confermato c'erano più persone e con un mezzo importante Quindi avete esporto denuncia? Assolutamente sì ci siamo ritrovati col collega negli uffici dei carabinieri per sporgere denuncia per portare tutto quello che erano le prove ruote, passi sulla sabbia e quant'altro dai carabinieri per vedere se possono fare qualcosa ma ci hanno già detto che sarà difficile Non si esclude l'ipotesi che l'area furtiva possa essere destinata ai paesi stranieri in particolare a quelli dell'est Resta il fatto che l'episodio ha riportato alla luce il problema della sicurezza Infatti gli operatori balneari tornano a chiedere più controlli e l'installazione di telecamere di videosorveglianza almeno nei sottopassi Io mi sono accorto lì mattina quando sono venuto in spiaggia era le 5, di mattina 5 un quarto così e ho visto che sono stati sciolti dei lettini ho visto che mancavano e ho dato subito, ho chiamato mio padre e qua sono stati rubati i lettini erano 13 e dopo mi ha chiamato Matteo dell'altra spiaggia qua è venuto qua e ha detto guarda me ne hanno presi 30 stanno facendo man basse nelle spiagge è una roba incontrollabile perché le telecamere le metti ma non servono a niente perché eviti tante cose e poi che ci fossi più controlli alla notte però non è facile secondo me mettere delle telecamere del comune nei punti, nei sottopassi quello lì potrebbero fare loro per vedere almeno chi arriva e chi esce per controllare un po' i punti strategici e si è spento all'età di 91 anni Gianfranco Casanova molto noto a Fano per aver gestito per più di 50 anni il cinema teatro Politeama fra i vari ruoli ricoprì anche la carica di presidente provinciale dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo il funerale si svolgerà domani mattina alle 10 in Cattedrale Casanova lascia la moglie Matilde il figlio Guido e i nipoti Giovanni e Francesco e una tragica notizia arriva da Monbaroccio dove questa mattina è stato ritrovato morto nella sua abitazione Luciano Lorenzi di 67 anni conosciuto per essere il presidente del Monbaroccio Calcio Lorenzi che pare si sia tolto volontariamente la vita lascia la moglie e due figli indagano i carabinieri è terminata invece l'operazione su scala regionale della Guardia Costiera denominata Safe Dishes durante la quale sono stati intensificati i controlli sulla filiera ittica dal mare ai principali mercati ittici della regione fino alla tavola dei consumatori nell'attività sono stati impegnati in 11 missioni 88 uomini e donne che hanno portato all'elevazione di 17 sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 52 mila euro tra le violazioni più ricorrenti rientrano la commercializzazione di prodotto ittico privo dell'etichettatura del prodotto e della sua rintracciabilità l'esercizio di attività di pesca in luoghi e zone vetate con attrezzi non autorizzati nonché la pesca di quantitativo superiore a quello consentito inoltre sono stati sequestrati 638 chili di prodotto ittico i controlli hanno portato anche al sequestro di 34 attrezzi da pesca non regolamentare e parliamo di lotta all'abusivismo perché oggi c'è stato un blitz dei vigili urbani a Pesaro durante i controlli sono stati eseguiti 5 sequestri per un totale di 715 articoli tra cui capi di abbigliamento giocattoli ed elettronica di un valore complessivo di circa 1000 euro ieri invece i controlli sono avvenuti nella zona mare e a Baia Flaminia dove sono stati effettuati 8 sequestri ad altrettanti venditori abusivi che poi si sono dati alla fuga in questo caso la merce senza marchio CE era di un valore di circa 2000 euro e rimaniamo a Pesaro dove ieri il sindaco Matteo Ricci ha inaugurato una grande mostra diffusa dedicata a Gioacchino Rossini nell'anno delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte del compositore un vero e proprio gioiello difficile definire diversamente la mostra Pesaro racconta Rossini un omaggio ai 150 anni dalla morte del cigno di Pesaro che ha dato vita a una serie di esposizioni diffuse tra Pesaro Urbino e Fano a Palazzo Mosca ci sono sei sale con documenti carteggi immagini esemplari di libretti d'opera e materiale per la prima volta esposto al pubblico che ricostruiscono le opere i luoghi e la vita del grande Gioacchino Rossini si presenta integralmente tra l'altro la collezione dei musei Ercolani Rossini composta da 38 dipinti e un marmo pervenuti al musicista in punto di morte a pagamento del prestito fatto ai nobili bolognesi include altre due sedi una Urbino con Pelagio Palagi e Gioacchino Rossini curata da Vittorio Sgarbi e Rossini il teatro la musica a Fano presso il museo archeologico e pinacoteca del Palazzo Malatestiano l'esposizione di Palazzo Mosca con percorso narrativo a cura di Emanuele Aldrovandi si potrà visitare fino al 18 novembre la sezione principale è costituita da un'installazione originale e atipica in cui il visitatore viene catturato da video audio foto oggetti con cui interagire percorrendo 12 stazioni narrative attraverso la ricreazione di uno spazio teatrale si segue Gioacchino dalla nascita fino all'ultimo concerto incontrando la sua musica le donne della sua vita interpretate da delle attrici e alcuni personaggi reali o immaginari che l'hanno conosciuto l'allestimento multimediale con tecnologie di ultima generazione è alla portata di tutti e offre un'esperienza unica una vera chicca poi la mostra del pianoforte storico con pezzi unici che saranno suonati da maestri per creare le esatte note del tempo e fra pochi giorni comincia il ROF attraverso i pianoforti storici attraverso i cimedi attraverso le lettere e distribuite sulle sulle tre sedi per il cittadino per il turista ma anche per l'appassionato tantissimi stimoli tantissimi punti di lettura di partenza per la grandezza di Rossini genio marchigiano ambasciatore della bellezza italiana nel mondo come sarà in quest'anno grazie anche alla legge speciale soprattutto come anche volano turistico per tutto il nostro territorio un biglietto unico che dà diritto a visitare le tre sedi museali e anche il trasporto con un piccolo sovrapprezzo si, se non lavoro anche sul trasporto in modo che ci sia anche la possibilità anche qui per i cittadini di non prendere l'auto e di girare e vedere anche le bellezze della nostra provincia muovendosi in autobus grazie alla collaborazione con l'Ami e anche ovviamente di muoversi per mi sembra dieci giorni dall'acquisto del biglietto unico sulle tre città con quindi libertà e possibilità anche di non prendere l'auto sia per chi non conosce la strada magari al turista ma anche per i cittadini della nostra provincia che vuole rinassarsi e vederla meglio Il piano in tre tempi per sciogliere il nodo parcheggio a Baia Flaminia lo rende noto Matteo Ricci nell'incontro tra giunta e consiglio di quartiere Porto Soria intanto tolleranza zero sulla sosta selvaggia d'estate anche perché mettiamo a disposizione le navette gratuite prenderle è una questione d'abitudine come accaduto nel caso di Sottomonte ma il sindaco guarda anche nel medio periodo a 100 parcheggi in più precisamente nell'area triangolo del circolo tennis compresa tra via Belgrado e lungo foglia delle nazioni sull'ex AMGA invece Ricci ha precisato non si costruisce più lo dice l'istituto superiore di sanità la partita dunque è chiusa ora il resto della bonifica procederà attraverso il verde sarà parco o bosco a seconda della modalità individuata dal tavolo tecnico sono previsti anche lavori di asfaltatura in via Amalfi via Persorie e via Le Napoli con rifacimento del marciapiede da Viale Trento a Viale Trieste lato porto interventi sulle scuole nella primaria di via Monfalcone dove ci sono cementi armati ammalorati all'asilo Nido Alberone con una sistemazione interna cambiamo argomento perché oggi pomeriggio nella sala stampa dello stadio Mancini il direttore generale dell'Alma Juventus Fano ha presentato il nuovo mister Granata Buonasera a tutti oggi vogliamo l'occasione di presentare il nuovo direttore generale il nuovo allenatore dell'Alma Juventus Fano lo avevano annunciato i primi di luglio ma oggi si svolta ufficialmente la conferenza stampa di presentazione allo stadio Mancini Simone Bernardini neodirettore generale dell'Alma Juventus Fano ha accolto il nuovo staff tecnico Anconetano di 44 anni Bernardini ha delineato la strategia Granata ripartiamo con rinnovato spirito ed entusiasmo ha detto cercheremo di dare una nuova impronta alla società e alla squadra sono stati giorni di intenso lavoro ma oggi siamo felici di dare il benvenuto al nuovo mister Massimo Epifani e allo staff composto da Dario Di Giannatale allenatore in seconda e Mario Di Pietro preparatore atletico spieghiamo di questa collaborazione effettiva che abbiamo fatto con il Pescara con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e presentiamo il mister che comunque per quanto mi riguarda è sicuramente la persona giusta che potevamo coinvolgere seguendo l'identikit che il presidente Cabellini mi aveva suggerito perché lui voleva un allenatore giovane un allenatore che facesse giocare la squadra che creasse un progetto che fosse abituato a lavorare con i giovani perché l'idea è quella di creare una squadra di una linea verde e abbiamo creato questa sinergia che speriamo ci possa dare qualche gioia per i prossimi mesi non può essere che entusiasta l'allenatore Epifani che avrà questo incarico fino al 30 giugno 2019 per me è motivo di grande orgoglio allenare una squadra così prestigiosa ha dichiarato quando coordinavo il San Nicolò ho avuto modo di affrontare molte volte il Fano e i match sono stati combattuti e appassionati arrivo motivato e spero di regalare qualcosa di importante a tutti i tifosi Granata anche se siamo partiti non ci stiamo facendo prendere dalla fretta di prendere i primi che ci capitano ma cercare di prendere giocatori che fanno parte di un progetto che vuole fare il Fano è già stata anche depositata l'iscrizione per la Serie C questa è una cosa importante bisogna dare merito al presidente che in questi anni sta facendo grandi cose qui a Fano quindi adesso bisogna fare la squadra che è la cosa più importante e poi inizierò a lavorare sul campo che è la cosa che aspetto di più per quanto mi riguarda e prima di collegarci dal Pincio per la Fano dei Cesarini vogliamo farvi vedere una maschera di bellezza romana creata per il ritorno di questo grande evento l'intervista di Linton Balestra Allora Sicilia come vi è venuta quest'idea di riprendere un'antica ricetta di bellezza Allora ci è venuta perché abbiamo fatto una ricerca siamo molto curiose abbiamo fatto una ricerca su internet e le patrizie romane utilizzavano tantissimo tempo per la cura della bellezza sia del viso che del corpo e quindi abbiamo preso una ricetta di Ovidio chiaramente modificandola dove abbiamo farina di dorzo miele acqua e esatto olio di mandorle per fare questo composto quindi diventa praticamente una maschera di bellezza in verità le antiche romane utilizzavano maschere costituite da composti organici quindi corna di cervo e scremento di pennuto utilizzavano moltissimo anche l'urina perché sbiancavi i denti noi chiaramente nel 2018 le nostre romane non possiamo cioè fanesi matrone fanesi non possiamo chiaramente consigliare questo però questa è una ricetta molto molto carina l'utilizzo di questa maschera si fa per? allora la facciamo per illuminare il viso per purificare il viso comunque la cosa più importante è avere un viso luminoso ossigenato quindi dove togliamo la stanchezza questo abbiamo fatto anche un video tra l'altro su facebook per cui se qualcuno ha piacere sulla nostra pagina lo trova quindi prima di fare la grande sfilata della domenica per presentarsi al meglio perché no una bella maschera a tema anche questo assolutamente sì anche perché al Dalia tutta la settimana avremo un trattamento daglioso romano dove chiaramente non faremo la ricetta di uvidio ma abbiamo una maschera all'argilla rosa e uno scrub un olio scrub per il corpo a base di pompelmo lavanda sale perché anche il sale veniva utilizzato molto le nostre vesti saranno queste per cui tutta la settimana noi saremo romane a tutti gli effetti e adesso come dicevo ci colleghiamo con Francesco Salvago che si trova al Pincio dove è in corso l'evento dedicato ai baby gladiatori la Fano dei Cesarini Francesco a te attenzione Mirko sì Simona come vedi mi trovo proprio qui all'arco di Augusto perché è partita ufficialmente la Fano dei Cesarini la cosiddetta revocazione storica dedicata ai bambini e alle proprie famiglie proprio oggi giovedì 12 luglio ma proprio parlando di questa iniziativa che entra all'interno del grande calendario della Fano dei Cesarini raggiungo qui il presidente del comitato genitori di Sant'Orso nonché organizzatore dell'evento Piero tutto pronto come vediamo già alle nostre spalle i bambini sono scatenati tra poco inizierà la corsa delle bighette voilà superiore alle aspettative tantissimi bambini siamo sui 250-300 bambini con tutte le famiglie al seguito già è un successo per noi ma vedere poi tanti bambini che a loro volta si divertono si stanno divertendo e si divertiranno anzi invito tutti a venire qui al Pincio ancora la serata è lunga perché è veramente un bellissimo spettacolo vedere tanti sorrisi tanto divertimento tanta allegria una manifestazione che non vede solo i protagonisti bambini i genitori ma coinvolge veramente tutti ormai la Fano dei Cesi è rientrata nel cuore delle persone attività anche didattiche sono state svolte questo pomeriggio noi abbiamo la fortuna qui a Fano di avere veramente due gruppi storici importantissimi e bravissimi a livello nazionale secondo me sono fra i migliori ricordo la Colonia Giulia Fanestris e la Simmachia Eleon ho la fortuna che poi mi danno una mano umilmente ho chiesto la loro collaborazione e loro me l'hanno data grazie a loro sono sette anni che portiamo avanti anche la romanità quando la Fano dei Cesari ufficiali è stata sospesa grazie al presidente Valori e dalla zona Pincio di Fano e tutto restituisco la linea allo studio grazie Francesco e intanto vi annuncio che in particolare per quanto riguarda la giornata di domenica quando si svolgerà la parata delle quattro fazioni nell'area nell'arena del Pincio non potranno entrare più di 4.500 persone queste fra i vari figuranti coloro che rimarranno in tribuna ma verrà ricompreso in questo numero anche tutto lo staff organizzativo lo staff tecnico magari domani ritorneremo su questo argomento nel corso del nostro telegiornale ovviamente il motivo è riguardante la sicurezza a causa della concomitanza con il programma della Fano dei Cesari il concerto del complesso bandistico Garavini di Terre Roveresche previsto per domenica alle ore 21.15 alla corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani è stato rinviato a data da destinarsi Trinitalia conosce poco la geografia è l'affermazione scritta da un nostro segnalatore che ci ha inviato questo messaggio arrivato gli appunto dall'azienda partecipata la quale ha invitato la clientela a visitare le marche le sue bandiere blu ma da Senigallia in giù e noi chi siamo ha esclamato il telespettatore in effetti se andiamo a leggere il riquadro che riguarda la nostra regione si legge spiagge bianche odorate calette nascoste baie selvagge acqua cristallina e bandiere blu da Senigallia a San Benedetto del Tronto il litorale marchigiano è l'ideale per chi è alla ricerca di relax sconti sui servizi negli stabilimenti convenzionati e un'altra foto adesso vediamo quella che è alle mie spalle inviata da un nostro reporter di strada che ha immortalato questo oggetto d'acqua causato da una tubatura rotta è successo in via a Miraglio Cappellini 43 a Marotta poco fa ovviamente sono stati chiamati i tecnici del comune per risolvere la situazione ancora una spettacolare opera d'arte dell'associazione chiaroscuro che ha impreziosito il campanile della chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta tante le persone che non sono volute mancare l'inaugurazione avvenuta lo scorso fine settimana oltre ai fedeli che hanno partecipato alla funzione religiosa era presente anche il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri soddisfatto naturalmente il parroco Don Enrico Secchiaroli dopo il telegiornale frammenti con l'afano di un tempo a seguire in cucina con lo chef è uno speciale dedicato alla notte dei bambini che si è svolta sabato scorso a Marotta di Mondolfo quello che vedete in sovraimpressione 339 338 4968 250 è il numero dedicato alle vostre segnalazioni grazie per aver seguito Occhio alla notizia arrivederci a domani grazie a tutti